E' stato filmato da alcuni automobilisti mentre procedeva Zizzag a bordo della sua Peugeot, l'uomo in evidente stato di ebrezza, che ieri intorno alle 13 ha invaso più volte la careggiata opposta. Si tratta di un cubano di 46 anni, residente a Filottrano, che si è messo in via Marco Polo all'ora di punta. Queste immagini girate dall'auto che seguiva mostrano le manovre pericolose fino alla rotatoria percorsa a contromano in via Flaminia 2, dove per fortuna non stavano transitando altri veicoli. Qui l'utilitaria si è fermata ma è ripartita poco dopo, alcuni istanti e poi lo scontro con un furgoncino Fiat Ducato. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Osimo. Dagli accertamenti è risultato che il 46enne guidava con un tasso alcolico pari a 1,57 grammi per litro. Durante il controllo l'uomo ha dato in escandescenza e ha cercato di opporre resistenza ai militari che lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza, patente ritirata e mezzo sequestrato. I sanitari invece hanno somministrato un calmante al cubano che è stato subito trasportato all'ospedale Torrette di Ancona. Illese invece le persone a bordo del furgoncino.